Per la 33esima giornata mondiale del turismo, 5 siti museali dell'Arcidiocesi di Napoli per la prima volta oggi saranno aperti al pubblico al costo promozionale di 3 euro. Con il ticket ridotto sarà possibile ammirare parte del prezioso tesoro di San Gennaro, le splendide maioliche del Chiostro di Santa Chiara, il complesso archeologico di San Lorenzo, il Museo Diocesano in Largo Donna Regina e le catacome di San Gennaro. L'iniziativa è indetta annualmente dall'Organizzazione Mondiale del Turismo e quest'anno è dedicata ai temi della sostenibilità dell'industria, dei viaggi e delle vacanze. La giornata mondiale del turismo è celebrata a livello mondiale il 27 settembre di ogni anno, in coincidenza con l'adozione dello Statuto dell'Organizzazione Mondiale del Turismo avvenuta a Città del Messico nel 1970.